Tutto è pronto in piazza San Giovanni il Laterano per il tradizionale concertone del 1 maggio, 8 ore di musica che prenderanno il via dalle 15 di domani a mezzanotte. Sul palco saliranno i big della musica italiana, da Gianna Nannini a Max Gazeta, Carmen Consoli e Ermal Meta, ma anche le vibrazioni Francesca Michelin e Fatboy Slim. Sono attese circa 500.000 persone, previsti Metal Detector e Varchi per entrare. L'area interdetta al traffico sarà compresa tra Viale Carlo Felice, Piazza di Porta San Giovanni e Via Emanuele Filiberto. Sono Giovanni Caudo e Amedeo Ciaccheri, candidati del centro-sinistra, che alle elezioni di giugno concorreranno per la carica di presidente dei municipi Terzo e Ottavo, a stabilirlo le primarie di ieri. È stata una vittoria del centro-sinistra romano che vuole guardare al futuro, ha commentato oggi il segretario romano del PD Andrea Casu, nel corso di una conferenza stampa. Fuori dalle primarie, gli esponenti di Leo. Non ci consideriamo dentro una cornice di centro-sinistra, ha detto il coordinatore romano Adriano Labbucci, ma siamo qui perché ci interessa la costruzione di una coalizione democratica, progressista e di sinistra. 800.000 sanzioni in un anno per un valore di 80 milioni di euro e ancora oggi 2.000 multi al giorno che fruttano circa 6 milioni di euro al mese per il Campidoglio. È l'impietoso bilancio delle vittime della corsia preferenziale più famigerata di Roma, quella in via di Portonaccio in direzione Tiburtina. La gente ancora non ha capito che qui c'è una corsia preferenziale, anche perché la segnaletica orizzontale è di nuovo cancellata. Ha spiegato all'agenzia dire il presidente del comitato, uniamoci contro le multe in via di Portonaccio, Luca Cardia. Chiediamo al Campidoglio di annullare le sanzioni e istituire un barco luminoso. Dopo i casi di Cicungunia dello scorso anno, la Regione Lazio ha deciso di giocare d'anticipo e di organizzare un corso formativo sulle attività di monitoraggio in aree urbane nei confronti della Zanzara Tigre. La formazione sarà dedicata al personale delle ASL, ma anche a quello dei comuni di Roma, Anzio, Nettuno, Pomezzi, Ardea, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. I casi di Cicungunia hanno evidenziato l'importanza di una corretta opera di prevenzione, soprattutto per il personale nei comuni che realizzano materialmente le disinfestazioni, ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato.